Andiamo a Fossano, si festeggerà domenica 1 ottobre in frazione Cussagno presso il ristorante Giardino dei Tigli il 65esimo anniversario dell'associazione autonoma panificatori della provincia di Cuneo. Dopo la messa che sarà celebrata presso il santuario, le 9 e mezza comincerà il convegno e seguirà il pranzo sociale. Dicono dall'associazione sono tante le conquiste sindacali che abbiamo ottenuto in questi anni grazie alla coesione di una categoria che prima di tutto collabora e reagisce unita alle difficoltà. E con questo spirito aggiungono dall'associazione che tanti fornai iscritti alla giornata intendono festeggiare un lavoro fatto di fatica ma anche di tanta passione. Sono stati invitati anche tutti i parlamentari della provincia di Cuneo e poi le istituzioni locali che l'associazione spera di annoverare tra i partecipanti. Il presidente dell'ente Piero Rigucci si dichiara soddisfatto della massiccia adesione da parte dei panificatori che in questi 29 anni di presidenza non lo hanno mai deluso costantemente pronti a dare dimostrazione di forza. Una categoria pronta a puntare i piedi contro la ingiustizia dice Rigucci che vuole maggiori tutele, rassicurazioni e soprattutto certezze per il futuro.